Sì, nel mentre il Governo cosa pensa di fare? Pensa di portare al prossimo Consiglio dei Ministri la depenalizzazione per il reato di immigrazione clandestina. Una follia. Invece di chiudere le maglie e rendere più rigida la situazione per l'ingresso in territorio nazionale, il Governo pensa di fare l'esatto opposto. Vorrei sapere se le varie femministe, le varie ministre del Governo Renzi faranno, anche dopo aver approvato questa depenalizzazione, l'hashtag scritto fatto. Perché fatto sì, fatto un disastro, l'ennesimo disastro di questa sinistra.